Vincenzo Piazza estate di mare la vediamo particolarmente abbronzato però anche di tanto lavoro per lo sciarca avete già avviato la campagna acquisti di fatto già completata? Di fatto completata ma non ufficializzata ovviamente facciamo a poco a poco così definiamo del tutto diciamo la rosa che a mio modo di vedere abbiamo lavorato abbiamo lavorato bene anche Stefano Soldano ha lavorato tantissimo dovremmo essere a completo. Adesso con l'ultimo acquisto dalla Folgore dopo i vari Ciancimino e tutti gli altri anche Cortese è una squadra che si pone l'obiettivo promozione? È una squadra che si pone l'obiettivo di fare bene come l'anno scorso ovviamente come ho detto in altre occasioni ci saranno delle squadre agguerrite anche perché ci sono delle piazze Vediagracas, Portembedo, Folgore, Salemi, San Vitolo Capo cioè ci saranno delle squadre sicuramente attrezzate noi non siamo da meno ovviamente vogliamo rimanere là sopra poi se viene come al solito noi ci tentiamo. Voi lamentate sempre giustamente condizioni precarie lo avete fatto durante tutto l'anno del campo di gioco ecco com'è la situazione al momento attuale? Lei è anche un tecnico oltre che essere un dirigente e allenatore della squadra? Il campo non può sostenere innanzitutto un carico di lavoro di tante squadre e l'anno scorso l'abbiamo risolto con l'apertura dell'alternativo. Quest'anno l'alternativo è stato nuovamente omologato ovviamente chi non lo sa è stato omologato ad aprile o a maggio ci abbiamo pensato ovviamente noi con le altre scuole calcio erano tutti presenti ovviamente. Ci abbiamo pensato noi quindi l'altro lato già è nuovamente omologato quindi il peso il campo da gioco non ci ha lato di tutte le squadre che si potranno allenare là dentro. Ovviamente poi parliamo del terreno di gioco. Il terreno di gioco è disastroso. Noi potremmo ho detto pure in altre occasioni amichevolmente dico sempre non è successo niente l'anno scorso anzi qualcuno si è fatto male però in interno si vuole dire. Noi rischiamo di fare male dei calciatori oggi che sono importanti per noi e non vogliamo questo né per noi né per le squadre avversarie. Vorremmo fare qualche amichevole di lusso speriamo solo che diciamo che noi vorremmo sistemare il campo per avere delle amichevole di lusso che ce la faremo perché siamo un gruppo ben coeso determinati. Gasper Bonsignor ci si dice sempre non vi preoccupate piano piano ce la facciamo. Il piano piano adesso pure lui dice va bene andiamo avanti. Ma avete avuto dei contatti del comune avete notizia che questi lavori saranno realizzati? Questi lavori verranno realizzati sì da noi. Quindi sarà lo sciacca a farsi carico di questi lavori? Allora quelli che possiamo fare noi solamente diciamo la manutenzione ordinaria le reti le facciamo noi ovviamente come l'anno scorso faremo le linee metteremo le quello per giocare il terreno di gioco è una cosettina un pochettino più pesante speriamo solo che i lavori vengano fatti.